ciao eccomi ancora qui e stasera cosa voglio parlarvi della carne della carne in generale allora quando si parla di carne si parla di prosciutto salame bistecchine allora io fino a sei anni fa ho mangiato carne mamma che buona che buoni salamini che buono il prosciutto che buona la mortadella fino a quando a un certo punto mi presentano davanti il computer mi dicono alta esiste youtube youtube che cos'è puoi vedere tutto quello che vuoi basta che digiti delle frasi e digiti invio a allora ho iniziato a digitare varie cose iniziate ad aprirsi un mondo ad aprirsi tante finestre fino a quando ho iniziato a digitare anche macello macello già macello quando ho cliccato macello io ho visto esattamente che cosa accade a quel prosciutto buonissimo che io mangiavo a quel salamino delizioso a quella mortadella quelle non erano cose che non soffrivano quelli erano esseri viventi che venivano massacrati che piangevano prima di essere trucidati per dare sfogo al mio palato e benessere al mio palato quando veramente io ho acceso questo questo youtube veramente mi ha aperto le porte della realtà della verità questo perché perché quello che vi fanno vedere in televisione non è la verità la televisione boicotta la verità la realtà ti fa vedere le mucche tutte felici sui prati con i bambini che corrono con i fiorellini in volca tutte gioiose no le mucche invece la realtà è che vivono in non libere ma sono in industrie chiuse serrate per tutta la vita e tutta la vita gli vengono attaccate delle macchine alle mammelle ok che gli ciucciano il latte che viene poi messo in commercio e che lo bevi tu e che lo bevo io lo stesso nel momento in cui partorisce i vitellini i vitellini vengono strappati maschi vengono strappati dalle mamme subito e per 80 euro vengono venduti ai macelli perché perché i maschi non possono fare latte quindi non servono ma servono per il commercio della carne quindi per tutto si sentono se voi avete mai sentito un cucciolo di vitello piangere è una cosa straziante è come se tu senti piangere un bambino appena nato quando lo strappi via dalle braccia della mamma è la stessa cosa sono dei pianti incredibili come i pianti che fa il maiale che è di un'intelligenza che voi non avete neanche idea hanno fatto degli studi approfonditi e il maiale infatti in america comunque molti maiali sono considerati comunque degli animali da compagnie da casa infatti anche George Clooney ha i maialini quelli indiani tibetani quelli neri e quant'altro e proprio tu li chiami ti seguono sono intelligentissimi e beh il maiale capisce prima di scendere dal camion che sta andando a morire e il maiale piange in una maniera straziante quindi quello che dico io, io nei momenti in cui ho visto questi video ho fatto una scelta che si chiama scelta etica io ho scelto perché ho sensibilità, ho cuore e sinceramente non me la sento più di mangiare non delle cose o può essere la verdura, la frutta ma degli esseri viventi degli esseri senzienti degli esseri che hanno sofferto, hanno pianto, hanno urlato prima di essere ammazzati e prima di entrare nella tua bella pancia per accontentare il tuo palato e per accontentare il mio sei anni fa io nei momenti in cui ho visto questi video credetemi, credetemi io non riesco più e sono felice primo ad essere complice di questi massacri e secondo non riesco più a ingerire altri individui io riesco a ingerire cose frutta, verdura pane, pasta ma non individui che soffrono io nei momenti in cui vedo nel mio piatto un pezzo di bistecca o un pezzo di salame io so che cos'è è un pezzo di cadavere è un pezzo di cadavere di un essere che prima di essere ammazzato ha sofferto, ha pianto e non solo nel momento in cui è stato ammazzato ma anche nel momento in tutto il periodo della sua vita perché spesso questi animali vivono in industrie intensive in allevamenti intensivi cosa vuol dire? che da quando nascono finché vengono ammazzati nelle macellerie loro vivono stretti in posti stretti chiusi non liberi e vengono anche pompati con tutti i antibiotici estrogeni eccetera perché? perché vogliono che la carne diventa più grande così la vendono di più e a noi ci fanno mangiare le schifezze e ci fanno venire il cancro quindi che ben venga la mia scelta da vegetariana per due motivi uno per la mia salute quindi per la mia incolumità e per l'incolumità degli animali io non voglio più essere complice di questo massacro e spero veramente di cuore so che è veramente difficile stiropare una cultura che è dentro di noi da anni e anni e anni lo so però l'unica cosa che ti dico non ascoltare me accendi youtube metti macello guarda e poi decidi tu può anche darsi che vedendo poi decidi no ma a me non interessa io voglio continuare a mangiare carne va bene è una tua scelta però non fare lo struzzo non mettere la testa sotto la sabbia non dire ah no non voglio vederli perché io poi sto male oddio ah tu stai male però continui a mangiare carne e loro e però continui a farli massacrare no è un discorso ipocrito ipocrita da ipocrita e soprattutto da codardo allora fai così abbi coraggio eh tira fuori gli attributi guarda youtube poi fai la tua scelta ed è giusto che tu faccia qualsiasi scelta tu prenda è giusta però devi guardare youtube e devi guardare cosa succede all'interno dei macelli poi sceglierai cosa fare io sono sicura sono sicura che tutte le persone che hanno un cuore e che sono sensibili e che vedono che ciò che loro mangiano è un massacro sono pezzi di cadagher veri massacrati sono sicura che quei video qualcosa vi fanno scattare nella mente per le persone non sensibili ovviamente non scatterà nulla ma la vita è fatta di gente buona gente cattiva gente sensibile gente insensibile però però voi avete il dovere tutti di andare a vedere youtube di andare a vedere come vengono ammazzati ciò che voi mangiate questo è un vostro dovere e un vostro diritto quindi fatelo 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 poi sarà una vostra scelta una vostra libera scelta però dovete sapere cosa state mangiando ok e quindi tutte le volte ricordatevi anche questo tutte le sante volte che andate al supermercato e acquistate una fetta di prosciutto una scatola di prosciutto un bel filone di salame sappiate che tutte le volte che voi lo comprate è andate alla cassa e pagate parte una telefonata allora venduto salame zona reparto macelleria prego prendere altro animale e ammazzarlo dobbiamo rimpiazzare gli scaffali perché è così quindi voi siete complici non dite che amate gli animali piuttosto dite amo il mio cane amo il mio gatto ma non dite che amate gli animali perché amare gli animali vuol dire amarli tutti nel momento in cui voi mangiate carne che siano insaccati fettine di 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 carne voi state mangiando animali quindi se per voi amare significa permettere di uccidere spero che voi non vi amate non amiate mai me perché a questo punto inizio un po' a do you understand? quindi detto questo credetemi credetemi amare è rispettare e non permettete non permettete assolutamente che questa cosa e queste questi massacri vadano avanti e questo dipende tanto anche da voi credetemi credetemi voi dite ma una fettina di prosciutto cosa? ecco per una fettina di prosciutto perché voi mangiate il prosciutto voi permettete che questa telefonata venga fatta e che un altro animale venga portato al macello massacrato ucciso se voi non fate questa chiamata questo animale verrà salvato quindi vi prego l'unica cosa che vi chiedo non è diventare vegetariani come me assolutamente questa è una mia scelta quello che chiedo a voi è darvi l'opportunità di aprire la mente open the mind quindi guardate youtube e cliccate macello poi abbiate il diritto avete il diritto di fare la scelta che volete ok un attimo vi faccio fare il salutino da me e dalla mia kokenji che è il mio amore grande allora tanti baciotti da me dalla koko e da tutti gli animaletti perché tutti gli animali sono uguali i maialini le mucche gli asini i vitelli i cagnolini tutti hanno un'anima e tutti soffrono ok quindi riflettete su quello che vi sto dicendo ciao e buon anno a tutti ciao 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 ovviamente senza cotechino a tavola ciao grazie a tutti